In Trentino, ordine di medici, sindacati e anche l'economia lancia l'arme per le vaccinazioni sul Covid, perché la provincia autonoma di Trento è molto in basso nelle classifiche nazionali sull'andamento della vaccinazione, almeno con una dose. Infatti, secondo le ultime rivelazioni compiute dall'Agenas, l'Agenzia Nazionale per la Sanità, risulta che la provincia di Trento è al sesto posto dell'agrodatoria e sotto di lei c'è solamente la Valle d'Aosta, il Friuli Venezia Giulia, la Campania Sicilie e la provincia di Bolzano, fanalino di coda assoluto. Cari amici vicini e lontani, bentornati a questa puntata di Vivitalia TV Trentino Alto Adige da parte di Stefano Veline. Se starete con noi fino alla fine della puntata, vedrete anche come il nostro Domenico Lacava interpreta da modo suo irriverente questa situazione e soprattutto questa gestione della campagna di vaccinazione in provincia di Trento. I dati dell'Algenas sono senza appello, tant'è vero che hanno stimolato anche la reazione dall'ordine dei medici con un'accurata lettera del suo presidente Marco Ioppia alla provincia, affinché si faccia di più e soprattutto del mondo sindacale, visto che i dati dell'ultima rilevazione del 19 agosto lanciano una sorta di allarme rosso, anche in vista della ripresa autunnale. Ma il problema è più generale perché con la ripresa di settembre, con le scuole che ritornano in pieno servizio, con l'economia che torna di nuovo a marciare a pieno regime, ci sarà un problema di maggiori contatti, di maggiore diffusione del virus, complice anche che muteranno le condizioni climatiche per cui la gente starà sempre di più in ambienti chiusi con contatti interpersonali molto più ravvicinati che durante il bel periodo della stagione estiva. Ma il problema è anche nell'ambito di alcuni luoghi di lavoro, pensiamo semplicemente alle scuole dove si è fatto poco o nulla per adeguare le strutture con sistemi di ventilazione forzata, con la vaccinazione dei professori, la vaccinazione soprattutto anche degli studenti che nella classe dell'adolescenza sono ancora tra i più bassi a livello italiano. Ma il problema non è solamente limitato alla prima vaccinazione con almeno una dose, il problema in provincia di Trento riguarda anche chi ha completato il ciclo delle due vaccinazioni e in questo caso qua i risultati sono ancora peggiori per quanto riguarda il Trentino. Secondo sempre i dati forniti dall'Agenas al 9 agosto, gli ultimi dati disponibili sono quelli del 9 agosto, hanno ricevuto la doppia dose solamente il 47,65% della popolazione, ultima in classifica tra le regioni italiane anche sotto la provincia di Bolzano, Sicilia e Val d'Aosta. Quando bene o male altre realtà come il Lazio che è stranamente a dirsi la più brava della classe ha compiuto almeno il 60% della popolazione subito incalzata dalla regione Lombardia e anche dalla Puglia. Ecco, in questi casi qua si dimostra un po' l'evanescenza della gestione della sanità da parte dell'assessore titolare, perlomeno facente funzione perché pare che l'assessore in carica ufficialmente, la Stefania Segnana, sia semplicemente un assessore di facciata visto che la stragrande maggioranza dell'attività pare che siano in mano direttamente al presidente della provincia Maurizio Fugatti. Quindi il duo Fugatti-Segnana hanno gestito piuttosto malamente tutta la campagna vaccinale, così come stanno gestendo tutta, ma piuttosto malamente, anche tutta la ripartenza della campagna delle vaccinazioni, delle casistiche di prevenzione negli ambienti scolastici, negli ambienti sanitari e quant'altro. I sindacati hanno ragione di protestare, di avanzare questi allarmi qua, anche perché se dovessimo avere una ricrudescenza dei casi di Covid e il Trentino è tra le province, le regioni che bene o male stanno cominciando a ballare tra la zona bianca in cui è adesso e la zona gialla per cui incominciano ad esserci delle ulteriori azioni di prevenzione e di limitazione delle libertà personali. Il rischio è quello di piombare nuovamente in una zona di rischio con tutto quello che ne consegue, sia anche per l'attività economica, sia anche per le libertà iniziative personali. E questo, visto quello che è successo fino a pochi mesi fa, non è sicuramente un buon presagio. Ecco, cosa si potrebbe fare? Si potrebbe sicuramente spingere per poter fare una maggiore diffusione della campagna, ma soprattutto, anche nell'ottica di rispettare le singole personalità, perché visto che il vaccino non è obbligatorio e le documentazioni come quella dell'obbligo del Green Pass è solamente un obbligo mascherato di vaccinazione, si potrebbe intervenire proprio sulle azioni di prevenzione, quindi strutturare gli edifici con una ventilazione meccanica in modo da cambiare continuamente l'aria, soprattutto dove c'è grande frequentazione, pensiamo semplicemente alle scuole, dare un'ulteriore capacità di pulizia, di ionizzazione dell'aria, di fusione di disinfettanti e quant'altro. E convincere poi la popolazione che la vaccinazione non è questo bel zebu, perché pur essendo stati approvati con procedure di urgenza, i vaccini stanno dimostrando la loro efficacia e pensare che questi possano far male, potranno avere qualche controindicazione, ma sono sempre casistiche molto limitate rispetto ai benefici che stanno apportando. Vi avevo accennato all'inizio di come il nostro Domenico Lacavo interpreta la situazione, andiamo a vederla. Come detto, la sanità trentina è nelle mani più del presidente della giunta provinciale che in quelle dell'assessore titolare e appunto Lacava vede in primo piano il presidente Fugatti con camice bianco, stetoscopio, guanti e dietro a fare da supporter, da infermiere, con tanto di crestina con la croce rossa, l'assessore, la sanità segnana. Signale che dice, è un mago in queste cose riferito a Fugatti, Fugatti che ha in bocca una seringa per le vaccinazioni e quindi risponde a malamente, invece che un sì sì, un tt. E sul banco chi c'è? C'è niente poco di meno che la farfalla del Trentino che è un pochettino scettica nel farsi vaccinare. La farfalla rappresenta un po' tutto il Trentino, tutto l'insieme dell'economia delle persone e quant'altro. Vedremo se questa azione riuscirà oppure no. Cari amici vicini e lontani, grazie per essere stati a questa puntata di Vivitalia Trentino Alto Adige. Da parte di Stefano Elena, prima di salutarvi, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per darci la forza per poter andare avanti, per dare voce a questa voce indipendente fuori dal coro. E intanto, un arrivederci alla prossima puntata. Ciao! Ciao!